Buongiorno ragazze, sto per andare a ritirare la torta di compleanno per Federico e sono di stracorsa, non di corsa, stracorsa perché ho dieci minuti per essere in pasticceria e poi appunto devo anche tornare a casa, scaricare la torta, andare all'Eurospin a prendere tutte le cosine che servono per la festicciola di oggi quindi si muore anche di caldo, quindi apriamo tutto e sbrighiamoci, andiamo oggi, venite con me, organizziamo e festeggiamo insieme a voi Allora, arrivati a destinazione pasticceria e adesso andiamo a ritirare la torta Grazie Sto salendo, speriamo che non mi veda perché ho chiesto a Ricchi di distrarre Fede Allora, sto morendo ragazze, nonostante qui a Torino si stia meglio, ma ho bisogno di un secondo Ok, torta messa in frigo, Fede non sa nulla per quello che sto facendo tutto stile Pantera Rosa, non vi dico dove vi ho sistemati perché non mi credereste mai Praticamente siete tra il volante e il cruscotto Ma qui non ci sono posti per appoggiare da nessuna parte, quindi è l'unica E Fede non sa che gli ho comprato la torta, pensa che ho fatto una torta semplicissima, margherita, infatti è tutto un pochettino Ma come, solo una tortina semplice fatta in casa E gli ho detto, vabbè, ti metto un po' di zucchero a velo, dai Quindi, madonna ragazze, sono in condizioni pessime, non fateci caso, ma mi sistemerò ovviamente poi dopo Era inutile sistemarmi stamattina, che poi sapevo che avrei sudato per fare queste corse qua Quindi mi laverò i capelli, mi farò una doccia dopo E niente, quindi adesso devo andare da Eurospin a prendere le bibite, le patatine, la pizza che faremo a trancetti Insomma, niente di che, poi magari prendo giusto qualcosina poi per la cena, per domani Ma proprio poca roba, ho preso solo due buste e conto di non utilizzarne di più Quindi bando alle ciance, come dico sempre, io andrei, sta volando tutto Ho dei capelli pessimi Dovrei anche andare dal parrucchiere, ma non ho voglia di spendere soldi E quindi non ci vado Mi farò poi una tinta io, solo che sono capelli molto lunghi Quindi, boh, la signora mi sta guardando come se fossi matta E niente, io direi che accenniamoci un po' di radio E andiamo Tornata, vi mostro queste due borse di piene di cosine C'è un po' di cose per oggi, per la festa E un po' di cose per riempire il frigo, diciamo Allora, popcorn Poi ho trovato queste due presine Visto che le nostre, vi faccio poi vedere in che condizioni sono Ma sono quelle di gomma e si sono praticamente fuse, sono distrutte Ho trovato questo qui, set presine guantone con il cactus Che è molto simpatico, molto molto carino E mi pare 3 euro O 3 e 3 qualcosa Comunque questo Poi, crescenza Poi ho preso 4 litri di latte Quindi non so tirarle fuori tutti Poi ho preso le mie preferite Le finissime di filetto di pollo Sono veramente super sottili Come piacciono a me Poi, sempre per oggi Ho preso queste qui al barbecue Poi ho preso Di nuovo i miei pomodori preferiti Perché non so fino a quando ci saranno Visto che Eurospin non li ha mai avuti E quindi quando li vedo, li trovo ancora Li prendo sempre Poi, queste per la colazione Per fede, insomma Le trecce Poi Come patatine ho preso anche i cornetti al formaggio Poi le trofie Solo che ho dimenticato di prendere il pesto Ma dettagli Lo prenderò poi Poi le gallette di riso Poi ho preso un po' di affettati Ho preso il prosciutto cotto Mortadella IGP con i pistacchi E un po' di crudo Poca roba Poco poco Giusto unetto Poi Ci sono Il succo di frutta alla pera Poi un po' di bibite Ho preso l'aranciata Ho preso il tè alla pesca La coca cola Poi zucchero Che è finito Parmigiano Ne ho prese due bustine L'altra bisogna capire dov'è E poi qua c'è gli altri due litri di latte E poi di qua abbiamo gallette di mais Me ne aveva venuta voglia Ho preso un po' di pane Fresco Ho preso questo che mi ispirava Filone con sesamo a fette Poi ho preso due confezioni di questa pizza qua Che è la nostra preferita Da fare a quadratoni E sempre per oggi per la festicciola Poi questa me l'hanno praticamente regalata Perché se spendevi almeno 30 euro Con un euro in più Regalavano questo speaker bluetooth Poi ho preso la pasta Questa qui trafilata al bronzo Le penne Poi qua c'è l'altra busta di parmigiano Poi ho preso questo sfumante dolce Sempre per oggi Poi Philadelphia Carne per Nala Due confezioni di questo pane solito Preferito stile americano E un altro litro di latte Mi preferito è stato il tio questa è la situazione manca la seconda infornata di pizze che aggiungeremo qui davanti quindi sarà poi un vassoio pieno ed è così l'avevo messo già i pacchettini il nostro e quello di i due di silvia e qui ci sono anche gli occhialetti per il festeggiato ho fatto i piatti secondo un'idea di ricky molto carina i piatti per i maschi degli avenger ce ne sono tre e piatti rosa per le femminucce e basta e poi ci sono i palloncini tutto pronto manca solo torta invitati e le pizze che mancano e auguri benedetto tanti auguri a te amma non usa la vasica esatto non ne vorrebbe ne gradirebbe un pezzettino dopo ah quelli sono i palloncini ma no fede è il cappellino torta pronta adesso accendiamo anche questo speriamo che non dà fuoco la casa ma dettagli questa è la torta con quello fa anche il fumo si no è quello che fa tipo il fuoco d'artesi è una candela e questi sono i di insieme che sono i suoi personaggi preferiti di youtube e ci siamo ora lo chiamiamo e via ma come mai si è congelato il tappo io ti ho messo un po' in frizze ma mi sto mangiando il personaggio eric ti stai mangiando eric e lei si chiama domenic ah già disastro si si appoggialo lì cing cing da te auguri auguri cing cing cos'è 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 no ma non bisogna mettere il cuscino del cuore ma non bisogna mettere il cuscino del cuore e gira gira fa vedere fa vedere l'elicottero bello la costruire Questa è da parte di Silvia Poi la ringrazia Diggielo Grazie Silvia che sta guardando il video Grazie Silvia Questa è dai 6 anni in poi E' proprio per bimbi grandi 3 in 1 Puoi fare questo Questo e questo Lo fai prima così Poi quando sei stupo lo dissi E poi tu questo Bello Guarda anche questo Sempre da parte di Silvia e Armando Questo Di qua è aperto Maglietta Bella Wow Questa Non ho idea Non ho idea Non ho idea di cosa sto facendo Bello Wow E poi E poi basta Che vuoi ancora Dai Grazie ringrazia Grazie di nuovo Silvia Ha fatto i bimbi Questo è da parte mia e di Ricky Ah si? Si Però se lo preferisci La prossima settimana Come ti ho detto Cos'è? Il colo del film Grazie 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 Jumanji Non Jumanji Jumanji E che c'è? E' un gioco cinese Giappone Si Gioco cinese Giappone No no C'è lo scotch Dopo Dopo lo guardiamo Hai visto? E' come quello del film E' uguale Un gioco che sa trasportare A chi questo mondo vuole lasciare Siano piano Porta la busta Guarda che nel nastro Che c'era di sopra Mi ha messo anche il fioppo Siano Guarda rompi la carta Sì guarda il buco Che bello Cos'è? Il pianeta Il sistema solare Bellissimo Bellissimo Sì la carta Dai si mangi Bellissimo Guarda come rimane Ma dai Ma è una lampada Un lampadario E guarda cosa c'è in mano Mi telecomando Girano Ma dai Che bello Praticamente questo è il sole E qua c'è la terra Bellissimo Ma poi te lo monti con Ricky Ti serve anche come studio Dagli otto anni in su E beh manca un anno Per cui devi chiamare C'è nonna Teresa questo Oh che bello Un kit Un kit per fare Ah una valigetta Una valigetta di legno Vedo ci sono tutte queste cose Guarda che bella Proprio il legno Guarda guarda Wow Eccolo Ebbene Ebbene non aprirla La vuoi aprirla Eh già aprila Guarda il contenuto Contenuto Aspetta Vediamo 12 pastelli ad olio 12 acquerelli 12 matite colorate Così sai cosa c'è dentro Non lo staccare C'è gancetto C'è gancetto Aprila 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 E si è attaccato La spina Che dice Aprila Aprila Wow 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 Bellissimo Aprila Temperino La gomma Guarda c'è anche gli acquerelli E' proprio tutto quello Che ti serve per farmi Dei super disegni Adesso Vogliamo un sacco di disegni Adesso Anche ad olio Ti insegnano a usarli Questi qua Ma voi lo sapete Scusate Io lo so Rompi tutto Spacca tutto Di qua Di qua Che c'è il buco Dove avevi tolto il nastro Bello Meccano E' la macchina Quella lì Da costruire Dei robot Sono le macchine Dei robot Che bello Guarda Noi Proprio quelle con La chiavetta Da stringere Guarda che ci sono gli attrezzi Ci sono gli attrezzi Bello E poi dietro Guarda Puoi fare tutti questi tipi qua Wow Wow Credo È di grande E dove le droghe Guarda Erano occhi Non guarda Che alle dorme Wow Cos'è 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 Aspetta Che leviamo la carta Aspetta Gira Leggi un favore Se è scritto Qui Flipper 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 Quello lì che fai Con le levette Non devi fare andare E passare la pallina Da qua Devi schiacciare il pulsante Che bello Perché il flipper è grosso Adesso lo proviamo subito Cos'è 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 Grazie a tutti.